Sono venuto qui per portare in solidarietà a Guglielmo Vaccari, io credo che questa battaglia che lui sta facendo è una battaglia al di là delle discussioni sulle metodologie, su se si poteva fare in maniera diversa, è una battaglia sacrosanta perché in un partito politico le regole non sono metodo ma sono merito e le primarie tra l'altro sanciscono un rapporto di fiducia tra l'oste e il grande popolo dei nostri elettori e il partito e quindi se queste primarie possono essere anche lontanamente inquinate da sospetti, da voti inesistenti, da voti inventati, questo altera questo rapporto e noi sappiamo quanto abbiamo bisogno di ricostruire fiducia e riavvicinare a questo partito quante più persone possibili e quindi la democrazia e le regole del gioco sono la base anche prima dei contenuti e delle battaglie con il figlio.